Sabatino Citera, 67enne di Sansa, ricoverato in gravi condizioni al San Luca di Vallo della Lucania da lunedì, ha bisogno urgente di sangue zero negativo. Lunedì pomeriggio l'anziano è stato ritrovato a terra nella sua stalla dai figli e a quanto pare è caduto accidentalmente battendo in modo molto violento la testa. Ora si trova presso il nosocomio vallese ed ha bisogno di trasfusioni. La famiglia dell'anziano, padre di un consigliere del comune di Sansa, chiede tutto il supporto e la mobilitazione possibile per aiutarlo. È possibile donare il sangue presso il centro di raccolta sangue Avis Comunale in Viale Lombardia ad Agropoli tutti i giovedì dalle 8 alle 12 e nella prima e terza domenica del mese nella sede dell'Avis Agropolese. Invece domenica 8 dicembre l'Avis Comunale di Agropoli farà delle raccolte straordinarie esterne nel comune di Capaccio Pestum in Piazza Santini e nel comune di Monteforte sempre dalle ore 8 alle ore 12. Per donare il sangue è possibile anche recarsi presso il presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania.